La cancellazione della sovrattassa nazionale è una buona notizia per gli abruzzesi, ma soprattutto per l'aeroporto di Pescara, perché ormai certo che la low cost irlandese Ryanair non lascerà dal prossimo ottobre lo scalo abruzzese. Il provvedimento, dopo l'approvazione da parte del Senato, sarà esecutivo dal prossimo primo settembre e durerà fino alla termine del 2016. Soddisfazione è stata espressa questa mattina dal presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Noi riusciamo a cucire l'approvazione in sede parlamentare della norma che supera la sovrattassa aeroportuale, che era un pugno allo stomaco agli aeroporti minori e ai voli low cost. E poi soprattutto questa scommessa amicale ormai della compagnia aerea Ryanair nei confronti dell'Abruzzo, poiché il 3 di agosto saremo insieme, noi, Ryanair, la regione Sardegna, il presidente Bonaccini con Graziano Del Rio, a definire la condotta riguardante la norma idonea per il 2017-18 che troviamo scritta bene e anticipata già nell'approvazione dell'emendamento. Stiamo lavorando anche a nuove linee guida che il Ministero dei Trasporti assumerà sempre per facilitare la vita dei voli low cost. Non siamo fiduciosi di più, poiché vediamo che la compagnia Ryanair, che è una compagnia che opera a livello internazionale, ha conosciuto e ha riconosciuto anche la dedizione puntuale che ci stiamo mettendo, anche rispetto ad un livello di governo che è quello centrale. Io li porterò anche a Bruxelles, poiché sto operando anche a Bruxelles per la revisione delle norme europee.